Siamo oggi venuti a vedere il Pressepe Vivente organizzato dalle Ali della Vita, siamo con una delle organizzatrici, la signora Anna Napolitano. Allora, ci racconta un po' com'è andato quest'anno questa esperienza. Beh, quest'anno per noi penso che è andato meglio degli altri anni, per la serenità con cui l'abbiamo affrontato, perché con la nuova location che abbiamo creato per noi le difficoltà sono state minori, per cui è molto importante, anche se la scenografia ci ha costato più di due mesi di lavoro. Gli altri anni si organizzava dopo Santo Stefano, quest'anno vi siete anticipati perché? Ci siamo anticipati perché abbiamo deciso di non farlo più nel periodo festivo, perché sono cinque anni che nessuno di noi si fa il Natale a casa, per cui la prima cosa è un po' riprendere la nostra vita e il nostro Natale pure noi, perché nei giorni natalizi si stava qua a preparare il Pressepe. E poi l'abbiamo anticipato perché in caso di un maltempo, essendo che qua la zona è molto soggetta al vento in particolare, allora abbiamo detto se è brutto tempo abbiamo altre due fine settimana per ripeterlo, perché sono lavori di due o tre mesi ed è un peccato non poterlo ripetere. Diciamo che è visitabile fino all'Immacolata, però per chi non riesce, quando lo riproponiamo? Il 5 e il 6 gennaio, perché poi il 6 gennaio c'è la lotteria che noi facciamo, per cui il 6 si chiude e si fa l'estrazione. Quanti sono i figuranti di tutto il Pressepe? Circa 100, quest'anno 120 penso più o meno. Che lavoro c'è dietro per organizzare tutto? Tantissimo, 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 vi posso assicurare. Siete soddisfatti della partecipazione da parte del pubblico? Sì, sì, quest'anno veramente abbiamo fatto sempre, ieri sera è il pienone, proprio era impossibile camminare, ma diciamo anche sabato e stasera un'affluenza continua che insomma non da lamentarsi, assolutamente no. Quindi ancora l'8 dicembre, poi 5 e 6 gennaio, per vedere la quinta edizione, la sesta edizione del Pressepe Vivente organizzato dalle Ali della Vita. Grazie a voi di questa... Grazie, grazie, buonasera.